BELLA TUTTI COMPANIA E qui il vostro case che vi parla, bentornati con un nuovo video su Battlefield Hardline Siamo nella mappa centro, in conquista, e ho deciso così di farvi un video un po' con lo sniperigno, il snapperello, quanto è bello questo Non voglio fare la rima Sono entrato in un server che abbiamo tutte quante le bandiere, GGVP e me Oggi è così ragazzi, mi andavo a farvi un gameplay un po' con lo sniper, perché lo sto utilizzando ultimamente, perché sto usando molto l'AVP Ok, è morto Andiamo a cazzo duro verso il nostro futuro Hanno peggiorato davvero tantissimo questo knockout Muorici Morto Morto Micchia sta facendo la triple feed Dov'è quello che sta conquistando sta bandiera, porca miseria ladra È qua Hello Io comunque stavo dicendo, sto facendo principalmente un gameplay con lo sniper, perché mi sto infognando un po' con lo sniper sulla Hardline Guarda, guarda Il lezzo proprio Lezzo Volevi andare a conquistare la nostra bandiera Volevi Eh, imbecille Ah, preciso una piccola cosa Sono morto due volte, come vedete Sto facendo 9-3 Per un semplice motivo Che, praticamente, una volta mi sono dovuto suicidare perché ho sbagliato classe Cioè, ho premuto X istintivamente E non ero cecchino, ero assalto Ero assassino, scusate La seconda volta, sono entrato insieme a un collega, che non farò mai più una cosa del genere E sono entrato insieme a un coglione sopra un elicottero che, come vedete, si è schiantato Non è questo l'elicottero, però dico Ogni volta che entro insieme a qualcuno, l'elicottero dopo si schianta, dopo 5 secondi Cioè, hanno un tempo di reazione al suicidio i miei compagni ogni volta che mi vedono dentro un elicottero o qualcosa del genere Che, non lo so Aspetta Oh, mamma mia Ok Ok E là, è là Eh, piccio Aiaiaia Ok, grazie mille per avermi salvato Ragazzi, intanto abbiamo vinto la partita perché sono entrato in una partita già iniziata Come il mio solito, io non riesco a mai trovare una partita appena iniziata Ma, ahi, andiamo a vincere Cioè, per 15-3, che tecchialmente sarebbe 15-1, eh Perché, vi ripeto, una volta mi sono dovuto suscitare perché ho detto Buon, facciamo il cecchino, entro e sono assassino Ok, bello inside Allora, io direi di andare su C Che nessuno vedo che ci sta andando Aspetta No, ma tranquilli, compagni Non c'è bisogno che ho conquistato una bandiera, eh Tranquilli Oh Eh, che cazzo volevi farmi Ciao, bello Oh, mio Dio La nostra prima bandiera dove poter esponare Wow Ah, già ci stanno conquistando B Viva Addio Ardi, ardi Uno Due Cioè, guardate quello là in fondo, dove è messo Ciao, stronzo Ciao, stronzo Cioè, sono circondato da persona Giusto Il problema principale è che io sto giocando senza compagni Dai, è lì L'ho ferito Muoversi Andate a ucciderlo Ok Ahia, di nuovo quel camper È là, eh Ciao, stronzo Ciao, stronzo Oh, fuck Ciao, pirla Non mi avrete Ok, è morto Ciao 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 Porca miseria, sto conquistando di tutto e di più, ragazzi Non so neanche cosa sto combinando in questa partita Sto facendo le peggio provate E i miei compagni comunque non riescono a conquistare sta bandierina, eh Oh, bravi L'avete presa Bravi, bravi Sto condendo Oh, guardalo là Ciao, caro Dai, lo so che vuoi uscire Ciao, stronzo No, 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 ha sponato No, non ci credo Ieri erano sponati dietro e non me l'ha spottati Non ci voglio credere Ok E due Tre, anzi Ogni tanto liscio certe cose che veramente per battermi vi dovete allenare A lisciare le cose Proprio vi dovete allenare Guarda, guarda Aia Chi mi ha preso? Eh, campurato di sopra Dai Riesci, faccia di cazzo Riesci Guarda quel camper T'avevo visto sulla minimappa, infatti Ok, uno morto Un altro morto Che bello spawn Che bello spawn IGN 10 su 10 IGN 10 su 10 Veramente Eccolo, guarda Di nuovo Guardali Cioè Salgono lì sopra e camperano Occhio, occhio Dietro, 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 dietro Volevi, stronzo Ma è hitmarker Guardali Un altro camper Aspetta, è così Ciao, bello Ciao, bello E niente ragazzi Alla fine abbiamo perso Come avete visto pure voi Erano tutti E ripeto Tutti cazzo camperati Ridicoli Io adesso sono curioso Per far vedere i livelli Che avevamo contro Sì, comunque Bla 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 Ho fatto un 38-16 Comunque è buono Sono primo di tutta la partita Buonissimo Vi faccio vedere i livelli 117-136-80-150 Cioè Boh Non so come cazzo Potevo vincere Contro dei camper del genere Io ragazzi Spero che questo video Così giocando un po' Con lo sniper Vi sia piaciuto In tal caso Vi dovete lasciare Un bel mi piace E un commento Dicendomi se volete Altri video Su Battlefield Hardline O magari su Battlefield 4 Con lo sniper Iscrivete al canale Se ancora non lo siete Passate dalla pagina Facebook Troverete sotto in descrizione Come troverete anche L'estensione per Google Chrome E Firefox E il canale di Telegram Per continuarmi a seguire Io vi ringrazio il cuore Per avermi seguito E noi ci vediamo Con un prossimo video Sempre by Bad Company Italy Sous-titrage ST' 501